Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In primo piano la sanità, apertura questa mattina del pronto soccorso dell'ospedale Maresca tra ritardi e operai ancora al lavoro. Siamo stati lì per documentare la situazione. Oggi partono gli esami di maturità per la seconda volta in tempo di pandemia. Unica prova orale. Spazio poi alla cronaca con l'indagine dei carabinieri su alcuni soggetti ritenuti responsabili di un omicidio di camorra a Scampia. Restato invece un pregiudicato che girava in Ferrari per la comunione del figlio. In conclusione abbiamo ascoltato le opinioni dei torresi che si dicono preoccupati per la campagna vaccinale in corso. Questo è molto altro. Guardiamo i servizi. Alle ore 11 c'erano ancora operai al lavoro. Ma ufficialmente il pronto soccorso dell'ospedale e Maresca di Torre del Greco doveva essere aperto e funzionante a partire dalle 8 di questa mattina, mercoledì 16 giugno, come annunciato alla stampa dall'ASL Napoli 3 Sud. Con le nostre telecamere siamo stati lì per documentare la situazione, verificando ritardi di alcune ore nel ripristino delle attività. Ai microfoni di TV City il direttore sanitario Fernando Siani chiarisce e puntualizza il pronto soccorso è aperto, non ci sono intralci tecnici. Direttore Siani, oggi mercoledì 16 giugno, il pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco sono le ore 11, in questo momento è aperto e riceve i pazienti? Certamente. Da oggi è aperto come abbiamo fatto le comunicazioni istituzionali, da oggi, stamattina alle 8 è aperto ed è una riapertura per cui non c'è nessun taglio nastro, come vedete si lavora sommessamente, operativamente, laboriosamente ma il pronto soccorso è aperto. Vediamo ancora operai al lavoro che stanno sistemando le ultime cose. Sì, può succedere con delle messe a punto che non intralciano assolutamente la prosecuzione dell'attività sanitaria che si va a prestare. Assolutamente vi assicuro non ci sono intralci tecnici, anche se alcune cose dovremmo ancora sistemare, ma non ci sono intralci. Abbiamo visto però alcune auto con pazienti a bordo andare via? Mi dite questo, io non lo so, se ci stanno e se dovesse essere successo non ho avuto ancora modo di appurare questa eventuale segnalazione che mi state facendo. In vista di questo ripristino delle attività del pronto soccorso si è investito anche su nuove apparecchiature, su nuova strumentazione? Anche su un nuovo progetto di ampliamento per l'effettuazione di altri sei posti, che questo è un progetto che si sta andando avanti e sono state messe a punto e ottimizzate alcune cose all'interno o anche all'esterno, vedrete, state vedendo che c'è stato un gazebo dove dar sfogo magari a chi accompagna un paziente e decongestionare un po' l'aria di triage dell'attesa e se lo vedete sta in corso a giorni che verrà sistemato. Come ho detto ci sono delle cose che stiamo sistemando per ottimizzare rispetto a come stava prima l'attività. al di là del progetto che sta andando avanti, dell'attivazione dei sei posti. Alle ore 15 è previsto anche un saluto dei vertici dell'Asling? C'è un appuntamento con i vertici dell'Asling che forma la direzione strategica. Noi abbiamo appuntamento qua con loro, le aspettiamo con ansia perché c'è anche un riconoscimento degli operatori, ci aspettiamo, lo faccio già io anticipatamente perché c'è stato una laboriosità e un impegno da parte di tutti a ripristinare l'attività di pronto soccorso, l'ASL farà il passaggio istituzionale immagino positivo. Erano presenti anche Santa Borriello, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle e Ciretta Vitiello, rappresentanza dell'Associazione Pro Maresca. Io come in primis cittadina di Torre del Greco mi sono regata qui al pronto soccorso dell'ospedale Maresca, proprio perché stamattina c'era l'apertura, quindi benvenga e ci è stata fatta una grande promozione di questa apertura, ma vengo qui e le porte sono chiuse. Quindi che messaggio stiamo dando alla città? La cittadina, veramente sono indignata, alle 10.30, anzi 37 per la precisione, già sono salite una serie di pronto soccorso perché oggi si sapeva che c'era l'apertura dalle ore 8, ma ad oggi, adesso, ancora è tutto chiuso. Dall'interno ci dicono che nel giro di qualche ora il pronto soccorso dovrebbe essere operativo, voi resterete qui a vigilare? Assolutamente sì, siamo qui. Noi come cittadini di Torre del Greco ci teniamo a ogni cosa, l'ospedale è il nostro bene primario, siamo qui, noi siamo vicino agli operatori, al personale che lavora, ai cittadini, quindi noi vogliamo soltanto e semplicemente che venga riaperto, perché è un nostro diritto. Io sto da stamattina alle 9 qua fuori, non so quanti pronto soccorso ho mandato indietro, non lo so il perché di questo ritardo, ci sono ancora lavori in corso, quando poi hanno avuto molto, ma molto tempo, da febbraio giusto il pronto soccorso per fare questi lavori. Pensate un po' che i medicinali sono arrivati stamattina, perché quelli là che c'erano mi dicevano che erano tutti scaduti, quindi a cosa stiamo giocando? Il pronto soccorso doveva e deve essere aperto come Dio comanda, con tutti gli annessi e connessi e con tutte le attrezzature per poter salvare la pelle a un cittadino che viene qua. Il cittadino quando viene qua deve salvarsi la vita, ci deve essere il personale specialistico, ci devono essere le attrezzature, ci deve essere tutto, altrimenti che pronto soccorso mi hai aperto? Alla presenza poi del direttore sanitario, i pazienti giunti in pronto soccorso sono stati accettati ed assistiti. Al via oggi dalle 8.30 gli esami di maturità per oltre 500.000 studenti dell'ultimo anno delle superiori. Si tratta di un maxicolloquio orale in presenza che parte dalla discussione di un elaborato il cui argomento è stato assegnato a ciascuno studente al consiglio di classe. Le commissioni sono 13.349 in tutta Italia, per un totale di 26.547 classi coinvolte. Si tratta del secondo esame di maturità sostenuto in epoca Covid, modalità atipiche, senza le consuete prove scritte e ancora tante limitazioni per garantire la sicurezza di studenti e professori. Come lo scorso anno, le commissioni sono presiedute da un presidente esterno e sono composte da sei commissari interni. Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con l'orale verranno assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi e sarà possibile ottenere la lode. Agli esami di maturità è stato ammesso il 96,2% degli studenti italiani. Una percentuale minima di bocciature, dovuta anche alla maggiore elasticità dei docenti nei confronti di alunni difficili e fortemente danneggiati dalla DAD e dall'isolamento. Non mancano le polemiche. Per molti l'esame di maturità con queste modalità non ha lo stesso valore di quelli sostenuti in tempi normali. Altri, invece, suggeriscono di approfittare dell'emergenza per abolire definitivamente quello che definiscono una semplice formalità anacronistica. Il ministro dell'istruzione Bianchi, intervistato a Uno Mattina, ha ribadito invece l'importanza della prova e la sua validità. È l'esame di Stato, non è un esamino e non c'è una prova unica, ribadisce. I ragazzi discuteranno, parleranno con la Commissione e mostreranno la loro tesi. Cosa succederà in futuro? Lo vedremo senza pregiudizi. Non verrete bollati come quelli del Covid. Misurate voi stessi. Alle prime ore del mattino a Milano e Saluzzo, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia catorare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distretto un'antimafia, a carico del primo genito di Di Lauro Paolo, alias Ciruzzo Milionario, Di Lauro Cosimo, classe 73, regente del clan di Lauro durante la prima faida di Scampia, e Todisco Nicola, alias Ninnone, classe 82, ritenuto anche gli elementi di spicco del medesimo sodalizio criminale. I due già detenuti per altra causa sono gravemente indiziati dai reati di omicidio volontario aggravato per aver agito con premeditazione e detenzione porto abusivo di armi, aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosa. Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti svolti dal nucleo investigativo di Castello di Cisterna, sotto il coordinamento della DDA di Napoli e dalle concordanti dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, in merito alle responsabilità in capo al Di Lauro e al Todisco, rispettivamente quali mandante ed esecutore materiale dell'omicidio di De Felice Massimiliano, legato da rapporti di parentela con le famiglie Abbinante e Notturno, all'epoca al vertice della contrapposta alleanza scissionista, avvenuto a Napoli nel quartiere Scampia il 28 novembre 2004, periodo in cui era in alto appunto la prima faida di Scampia, guerra senza quartiere, protattasi dall'ottobre 2004 all'aprile 2005, che ha mietuto numerose vittime, quasi tutte tra congiunti dei principali esponenti criminali e spesso del tutto estranei a contesti camorristici, secondo una strategia di tipo terroristico messa in atto dai killer. Infatti il contesto criminale dell'omicidio De Felice, avvenuto nelle fasi iniziali della prima faida di Scampia, esplose in un momento storico in cui era in atto un riequilibrio dei rapporti di forza e delle relazioni tra i clan napoletani, fu sostanzialmente una prima risposta al duplice omicidio di Montanino Fulvio e Salerno Claudio, uomini di estrema fiducia di Cosimo Di Lauro, verificatosi esattamente un mese prima rispetto a quello del De Felice, ovvero il 28 ottobre 2004, e che di fatto aveva segnato l'inizio della contrapposizione tra i scissionisti, composti dai clan Abete Notturno, Abbinante, Marino, Amato Pagano e il clan di Lauro. Le attività investigative hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'omicidio, nonché di accertare che la vittima era stata attinta al capo e al torace da molteplici colpi di arma da fuoco e che Di Lauro Cosimo aveva richiesto al gruppo prestieri, quest'ultimo all'epoca articolazione dei Di Lauro, dislocato e operante nelle aree cosiddette osi del Buon Pastore e Sette Pazzi del quartiere Scampie di Napoli, l'esecuzione di un omicidio ai danni della contrapposta alleanza scissionista. L'esecutore materiale dell'omicidio, Dodisco Nicola, che poteva contare in un rapporto di conoscenza reciproca con la vittima, era ritenuto da quest'ultimo un insospettabile, quindi elemento all'epoca di basso spessore criminale, fattore quest'ultimo che non aveva ingenerato alcun sospetto nello sventurato De Felice. Infatti a confermare tale circostanza le dichiarazioni di moltiplici collaboratori di giustizia hanno permesso di stabilire che Dodisco Nicola, nell'avvicinare l'ignaro malcapitato, con la scusa di avvisarlo circa la presenza delle forze dell'ordine nei paraggi, lo aveva anche salutato per poi esplodere gli contro, subito dopo, numerosi colpi di arma da fuoco. La tenenza di Arzano e il nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato e condotto in carcere Cristiano Pasquale, ritenuto elemento di vertice del gruppo criminale 167, operante in Arzano, costola del clan Amato Pagano. Lo stesso, mentre era sottoposto agli arresti domiciliari, veniva autorizzato lo scorso 6 giugno a partecipare alla comunione del figlio, rendendosi protagonista di un carosello in Ferrari nelle vie del paese, nonostante gli fosse stata rigettata la richiesta finalizzata alla partecipazione ai festeggiamenti. Cristiano, infatti, a bordo di una fuoriserie di ultimissima generazione, una Ferrari decapottabile, noleggiata per la circostanza, si era girato per il centro di Arzano, accompagnato da altri veicoli di grossa cilindrata e persone a piedi, tra i quali anche altri pregiudicati, tutti identificati dai carabinieri, creando disagio per la circolazione, con modi e tempistiche non compatibili con il percorso imposto dall'obbligo di immediato rientro presso la sua abitazione. Il provvedimento è stato adottato dalla Corte di Appello di Napoli, su richiesta dalla Procura Generale sulla base di un'informativa dei carabinieri di Arzano, che hanno documentato e evidenziato la condotta del Cristiano, ritenuta una vera e propria provocatoria a prova di forza, finalizzata all'affermazione della sua presenza sul territorio. Sono stati posti a fondamento dell'ordinanza ulteriori passate violazioni di Cristiano Pasquale, alla misura alla quale era sottoposto poiché, in più di un'occasione, aveva manifestato in sofferenza i controlli di routine delle forze di polizia. Ancora preoccupazione sui vaccini, la preoccupazione sulla somministrazione di AstraZeneca ha portato il governo a modificare il piano, vietando il farmaco al di sotto dei 60 anni. Abbiamo chiesto ai torresi opinioni e preoccupazioni alla luce dei nuovi dati sui vaccini. Cosa ne pensa del caos che sta accadendo in questi giorni su AstraZeneca? Il problema comunque è sempre una malinformazione, per me, il mio modo di vedere, è sempre una malinformazione. Poi si doveva vedere le circostanze in base, sempre le situazioni, sempre soggettive, oggettive. Quindi lei pensa che i cittadini sono anche spaventati dai media? È normale, è normale, sempre perché è una malinformazione, sempre l'informazione. Lei che vaccino ha fatto? Io ho fatto il moderno, tutte e due dosi. È un macello. Lei è contro AstraZeneca? Sì, perché comunque dopo quello che è successo non è semplice. Sono considerazioni importanti che bisogna fare, perché la sperimentazione è in atto, però nessuno di noi può essere certo di quello che poi può accadere nei prossimi anni. No? Quindi vedremo la ricerca come andrà avanti e speriamo che ci sia qualche soluzione adatta ai nostri problemi. Lei che vaccino ha fatto? AstraZeneca. Stamattina ho fatto anche il richiamo, stamattina. Stamattina proprio ho fatto il richiamo alla seconda dosa. Un po' di stanchezza, un po' di dolore sul braccio, ma nulla di che. Febbre, niente. Adesso vediamo la giornata come va. Speriamo bene, ma credo che non ci siano problemi per me. Io comunque sono un'opera del 60. Forza giovani, in bocca al lupo per voi e speriamo bene per il vostro futuro, che anche il nostro. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.